Buonasera, siamo allo specchio, non in discoteca, anche se la nostra ospite è già partita interpretando questo brano, la febbre del sabato sera, siamo partiti alla grande, la febbre del sabato sera anche se è domenica ma il fatto è che sbirciando sulla pagina facebook della nostra ospite abbiamo scoperto che questo è uno dei dischi, uno dei dieci dischi che più ha segnato la sua vita avrà ballato con John Travolta? Non lo so, glielo chiederemo quello che di certo so è che Carol Hensler, direttrice dei musei di Bellinzone e dunque anche di Villa dei Cedri dal primo agosto di quest'anno è la nuova presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri e sono 800 istituzioni e forse anche di più, insomma mica una cosa da ridere e allora allo specchio diamo il benvenuto alla direttrice Carol Hensler Buonasera e benvenuta Buonasera Siamo partiti bene Sì Ho fatto una sbirciata giusta Esatto Ma cosa ci azzecca? Allora una ricercatrice di arte, una persona colta che ha studiato Eugène Delacroix, che ha studiato Rubens con John Travolta Beh, siamo anche degli esseri umani, abbiamo anche i nostri gusti fuori dalla ricerca e mi ricordo di aver visto all'epoca il film con il mio padre e la sua sorella in Alsazia e dicevo sempre Ah ma l'ho visto alla sua prima uscita Un po' non era possibile ma in questo senso mi aveva marcato anche perché è il primo film di cui mi ricordo al cinema Ci siamo, siamo partiti con i Bee Gees e io ho visto anche sulla pagina Facebook altri dischi Smashing Pumpkins, Pink Floyd mi verrebbe da dire Old School Sì, beh, sono anche i riferimenti della mia generazione Cioè, chiaramente sono la rigenerazione U2, Depeche Mode, però anche Metallica, ovviamente Nirvana Cioè, voilà, queste ci hanno riportato anche col tempo a interessarci alle radici del rock pop E dunque, voilà, dopo ci accompagnano E' arte anche questa? E' arte anche questa, l'arte è cinematografica, musicale Non c'è, sono anche, mi piace molto anche andare all'opera Ma non c'è solo quello Esatto Da dove viene, da dove proviene la cultura nella sua famiglia? Allora, io Chi aria ha respirato lei in famiglia? Nata a Lausanna Nata e cresciuta a Lausanna ma di padre alsaziano Dunque andavo anche spesso a Strasburgo e in Francia e dunque la cultura francese fa anche parte Cioè, il defilé del 14 juillet era anche allo schermo nella mia gioventù E poi di una mamma, lei nata e cresciuta a Friborgo Dalla parte svizzera tedesca, che oggi mi fa strano Perché la base ville è la parte chic di Friborgo oggi Mentre all'epoca è la parte povera, però Dove c'erano anche grandi, cioè quelli che sono diventati grandi fotografi della storia svizzera Dunque, c'è anche un bel bacino di artisti Assolutamente Poi lei Lausanna ma ha studiato anche a Neuchâtel Archeologia Se l'etimologia non è un'opinione Ci dice che l'archeologo volge lo sguardo al passato, alle cose antiche Però lei poi negli anni si è specializzata Ha preso la direzione dell'arte moderna e contemporanea Come mai? È un po' un caso, cioè nel senso Anche quando ho fatto gli studi la priorità era l'archeologia Primo sogno da bambina è diventare Agatha Christie Seguire il mio archeologo sui suoi siti e scrivere i romanzi Però quel che succede durante gli studi Ho fatto archeologia e storia dell'arte in parallelo Quando si arriva al lavoro finale All'epoca di licenza, oggi di master Per l'archeologia bisognava avere un fondo sul quale studiare Dunque i risultati di scavi E questi scavi erano un anno su due L'anno quando dovevo finire non c'era Dunque ho deciso di farlo in storia dell'arte E questo mi ha un po' portato a finalmente scegliere La via dei musei della storia dell'arte È stata una via assolutamente vincente per la sua carriera Perché comunque 800 sono le istituzioni Ma cos'è l'Associazione dei Musei Svizzeri? Allora, importante sapere che appunto Io sono direttrice di un museo d'arte Ma nell'Associazione dei Musei Svizzeri Parliamo di musei di storia, di storia naturale, di etnografia Possono essere grandi musei come il Consmuseum di Berna Piuttosto che musei regionali Che non hanno magari neanche un curatore fisso Dunque anche musei che lavorano molto col volontariato Dunque delle realtà molto diverse E poi ci sono anche la cosa che spesso stupisce Che ci dimentichiamo Che gli zoo scientificamente gestiti Sono anche dei musei Considerati dei musei Perché lavorano su un patrimonio Che è quello della fauna Mentre quelli di storia naturale O i giardini botianici Sulla flora Sono il pondon Insomma Certo Nella sua formazione Nel suo percorso Lei ha vissuto anche in grandi città Penso a Vienna Per la fondazione Thyssen Di arte contemporanea Però è passata in Ticino Ovviamente E immagino anche che per viaggi Numerosi viaggi Lei frequenti grandi città A Londra I musei sono gratis E capita di vedere magari La Vergine delle Roce Di Leonardo Da Vinci Così Pagando un caffè E questo E questo non è male Inoltre è stato anche Al centre Paul Klee Di Berna Insomma Ha attraversato Le grandi capitali Anche dell'arte Poi però La sua scelta di vita L'ha portata A Bellinzona Che a me pare ingeneroso Dire Che è una città Di provincia A parte che è la capitale Del canton Ticino Però è vero Che rispetto Parigi O Londra Uno potrebbe dire Che è Una provincia Sull'offerta Culturale Ci vado prudente Perché non voglio Offendere nessuno Ma quali sono I pregi Della provincia E perché Lei ha scelto Bellinzona Allora Corrego Per la fondazione Tissen Ho lavorato Da Zurigo Ero a Vienna Perché la loro sede C'è Tra i due Però effettivamente Anche per il lavoro Sono regolarmente a Parigi Almeno Una o due volte all'anno A Parigi E Ci sono Due cose Perché La vita culturale Artistica Non può essere Solo nelle mani Dei grandi musei Perché Le aspettative Sono totalmente diverse Il ruolo Anche dei musei Più piccoli Più regionali E di Guardare un territorio Se In Svizzera Dobbiamo accontentarci Dell'Andes Museum Allora non ci saranno Più Le realtà Del canton Vaux Piuttosto che Del canton Ticino Piuttosto Che Di Glarus Per esempio Dunque Il ruolo Dei piccoli musei E anche di essere Gli osservatori Di un altro Tipo di territorio E poi Le loro ricerche Osservazioni Collezioni Anche le loro mostre Passano poi Anche Possono confluire Una volta Nei più grandi musei Bisogna anche sapere Che grandi artisti Hanno incominciato In piccoli musei Prima di essere Riconosciuti Magari A livello internazionale Dopo Il vantaggio Di Di un piccolo museo Probabilmente Non potrei essere Presidente L'associazione Di musei svizzeri Lavorando per un grande Da un lato È perché Comunque La direzione O anche i curatori Di piccoli Medi musei Toccano tutto Dunque abbiamo La realtà Sia di come Fare l'inventario Della collezione Sia come Fare Comunicazione Le relazioni Con la stampa Cercare i fondi Piuttosto che Immaginare la strategia Di programmazione Del museo Sia anche degli eventi Ci occupiamo anche Di realizzare Pensare gli eventi Dunque è anche un modo Di essere più A rapporto Diretto Con la realtà Di cos'è L'istituzione Museale Per esempio A Bellinzona Ci sono Il vantaggio È che andando Al mercato Del sabato mattina Avevo subito Le aspettative Del pubblico Bellinzonese Cioè dopo Una prima mostra C'era un feedback Immediato Al mercato Tipo Perché non fai più L'arte dell'ottocento Adesso hai fatto Un po' troppo D'arte contemporanea Arriverà Ma questo Sta toccando Un punto Direi quasi cruciale La direttrice Di un museo Che è anche la curatrice Quindi deve scegliere Quali mostre Esporre E alla fine Sono scelte Non solo estetiche Artistiche Ma anche politiche Perché se si assecondano Magari degli artisti Locali Si fa del localismo Che magari Politicamente In certe situazioni Può essere connotato Magari a destra Poi lei Ha fatto la mostra Sull'arte La botanica Insomma Stiamo parlando Di ecologismo La green Eccetera E quindi Lì si va Un po' A sinistra Alla fine Lei è anche Una politica No Il museo Deve evitare Di prendere Posizioni politiche Anche se la sua storia È oggetto Di potere E proprio È stato assorbito Da grandi movimenti Di potere Una parte dell'arte Anche dettata Dal potere Oggigiorno Siccome il museo Deve veramente Trovare il suo posto Nella società Ma deve essere Un luogo di riflessione Di pensare La società Di dare anche Delle chiavi Al pubblico Al cittadino Per prendere Le sue decisioni Cioè Idealmente Lo so Che così Può suonare Un po' utopico Ma il museo È quello Che permette Anche a tutti Di evitare Di capitare Nelle fake news Di farsi anche Un'opinione Indipendentemente Di quello Che gli viene Trasmesso Tramite la comunicazione Dei partiti Dunque Il museo Cerca di dare Tutte le sfaccettature Di un problema È chiaro Che appunto Di un problema Contemporanea Come la questione Ambientale L'abbiamo provato Con arte botanica Dunque il ruolo È veramente Di essere Il posto Dove si danno Delle chiavi Di lettura Molto varie Che possono appunto Essere diverse È associata A diversi partiti Ma di cui Senza dare le risposte Senza neanche Essere il luogo Delle soluzioni Perché quella domanda Come divulgare L'arte È una cosa Che forse vale Anche per la televisione Come divulgare La complessità Della cultura Perché se la si trasmette Nella sua complessità Magari Non si rispetta La complessità Dell'arte Però non si trova Un pubblico Invece Se la si divulga Semplificandolo Magari si va Verso Una banalizzazione Ma si ha il pubblico Questa è un'eterna domanda Lei ha trovato La quadra Il grosso problema La parola giusta È la complessità Il problema Della società Di oggi È di non voler Più complessità E di aspettare Che gli altri Li semplificano Il lavoro Purtroppo La società Si complessifica Sempre di più Cioè appunto Proprio I social media L'internet La globalizzazione Potenziale Dell'informazione Ha aperto Dei vari livelli Di complessità Il ruolo dei musei In questo È di poter Dare la complessità Senza dare la pressione Della complessità È un po' questa La sfida Dunque Anche solo Giocando magari Su uno a tre piani Espositivi Da tre livelli Di complessità Mette pezzi Del puzzle Separatamente Perché uno Possa ricomporlo Come gli conviene Una domanda Si può anche Ironizzare Fare parodia Su come comunicare L'arte Alla gente Io le propongo Di vedere insieme L'estratto Di un film Alberto Sordi 1978 Vacanze intelligenti Sono i figli Che dicono I genitori Ma vai Alla biennale Andate alla biennale Da culturarvi Vediamo Guarda che bella sedia Metà sedia qui Ci vado io a piatta Qualche cosa da beve È da bagnare E come no Pia qualche pagnotella Una biretta fresca Quello che trovi Sì sì Quello che c'hanno Pio Tu sta qua Non te muove E dove vado Stai bene Sì re Fa un bel freschetto Brava Ritorno subito Scusi Io non riesco a tovallo Non c'è una mensa Un bar Dove si mangia Se bene Guarda Alla Sedia con corpo adagiato Un'opera vivente Un'opera originale cara Io so i 18 milioni La comprerei A me mi sembra bello Vedi quel corpo Sembra una sfera Che prima si sprofonda Verso il basso E poi si inalza piano piano Come sospinta dal vento Che muove la palma Ago Qui alla biennale C'erano niente La magna C'erano solo sti barattoli Vedi è fresco Porca mignota Beh a bentar Ma chi sono questi Che stanno a fotografare Chi Questa è la mia signora Che fotografate Ma non glielo potevi dire tu E che glielo vedi Che non sei una statua Che è mica una donna nuda A me volete comprare 18 milioni 18 milioni Beh Massa Ma ne è troppo Caro Lensler Direttrice 18 milioni Delle vecchie lire Sarebbero Sì insomma Sui 20 mila euro Lo so Qualcosa del genere Oggi Con l'inflazione Lei Quest'opera d'arte Non ce l'ha Nella sua Nella sua galleria No Ma divertente Come rispecchia Anche delle varie opere Dell'arte contemporanea Di oggi Come Dwayne Hansen O anche Martin Parr Gioca anche proprio Su questo Fluire Dell'arte Ancora oggi Dunque Tematica 78 Ci siamo ancora in pieno Ci siamo Perché ogni tanto L'arte contemporanea Uno si può chiedere Ma cos'è Cos'è l'arte Una vecchia Ovviamente Una vecchia domanda Però io vorrei chiederle Perché La gente Sgomita Per fotografare La Gioconda All'Ouvre Perché La gente Si accalca Gli uffizi Per Vedere La venere Del Botticelli Ci sono Delle opere Che sono Diventate Patrimonio Visuale Direi Perché sono Entrate O delle pubblicità O Riproduzioni A tutto tondo Perché comunque Sono dei capolavori Completamente Atemporali E possono ancora Parlare oggi Quanto parlavano Quando sono Stati concepiti Certe volte Anche la loro Rarità O le storie Che sono Attorno Perché anche Dietro La famosa Mona Lisa Ci sono Anche le storie Il mito Di chi è La Mona Lisa Dunque C'è anche di questo Ovviamente Se oggi La Mona Lisa Ha contribuito Anche alla sua storia I romanzi E i film Sul mistero Del Louvre Dunque Ma già all'epoca Anche in Francia C'è stato Bel Fégor Che era il fantasma Del Louvre Un film mitico Francese Che ha anche Contribuito A favorire Le masse Che vanno All'Louvre Dunque È più Un patrimonio Perché siamo Una società Visiva E nutrita Visivamente Dunque Sono delle cose Che ci rimangono Si può chiedere A chiunque Passa per strada Chi è la Mona Lisa Lo conoscono Non conosceranno Ferraguti Visconti O Augusto Sartori Dunque Sono veramente Delle opere Che sono entrate Nel nostro patrimonio Per vari motivi Magari alcune opere Come il grido Di Munch Anche il fatto Che sia scomparso Stato rubato Dunque Appassionato Magari lo si trova Nei poster All'Ikea Quando andiamo A pagare la cassa Chi va All'Ikea Lei La sindrome Di Stendhal Si dice Che sia Questo stato Di esaltazione Spirituale Di fronte Alla bellezza Di un'opera d'arte L'ha provato Quando Cos'è Veramente Un'opera d'arte Che l'emoziona O direi Un tipo Di arte Che l'emoziona In modo particolare E devo dire Che appunto Ho studiato Storia dell'arte Per via Di Eugène Delacroix E dopo quel tempo A vedere Tutte le opere Grandi classiche Quelle magari più note Quando sono andata Nelle sale Di Eugène Delacroix Au Musee du Louvre Quello che mi ha più colpito È la giovane tigre Con la sua madre Cioè qualcosa Di molto più semplice Ma Dal livello del soggetto Ma A livello di Pittura A livello Di emozione Che Che divulga Non è semplicemente La grande storia Perché De La Croix È stato anche Il pittore La libertà Che brandisce la bandiera Sulle barricate Cioè lì La potenza Viene anche Dalla storia Che c'è dietro Mentre nella giovane tigre Con la sua madre È qualcosa Di molto più Umano Possiamo dire Che Carol Hensler È più portata Verso Il romanticismo Verso Eugène Delacroix Che è magari Il classicismo Più lineare Meno tormentato Di Engre Lei È Una romantica Comunque Le scelte Nella sua vita Vengono dettate Comunque Da un tormento Di fondo Sì ma anche perché Appunto Vengendo Delacroix E anche a livello Sociologico Di storia Mi interessa Perché è proprio Quel momento Della storia Dove non siamo più Nei modelli Di società antichi Con Il re L'imperatore Eccetera Non abbiamo Cerchiamo ancora Di costruire Una società diversa In questo senso Appunto La storia della Francia È molto movimentata In questi anni E Delacroix È legato Alla vecchia storia Ma a livello Della sua pittura Del modo Di dipingere Apre La nuova porta Dunque Sono questi momenti Di crisi Che permettono Di riassestare O di creare La nuova società Come distaccare Da valori Che abbiamo realizzato Hanno portato Anche Alla fine Di una soluzione Di società Diciamo Equilibrata E dove stiamo andando E in questo senso L'arte Certo Poi l'arte Registra In modo perfetto Anche La società E la politica Prima abbiamo parlato Di arte politica Mussolini Ovviamente Voleva divulgare Un'immagine Un po' monumentale Eroica Dell'uomo Il mecenatismo Del papa Richiedeva altri Stilemi Ovviamente Però Sempre un po' L'arte Come operazione Di marketing Magari del potere Poi arriva magari Warhol Il pop Che ribalta tutto Una società Che però Ora accoglie Una donna Comunque Alla presidenza Un ruolo Che già era stato Di Gianna Mina Quindi il Ticino E' ben rappresentato Diciamo così Nell'istituzione Dell'associazione Dei musei svizzeri Non era scontato Forse Che le donne Avessero Questo Diciamo Questa posizione Anche Di peso Nella cultura In un paese Che a lungo Ha negato L'idea Della donna Attiva Pubblicamente Insomma Il voto Il suffragio Universale E' arrivato Molto tardi In Svizzera Lei come donna Come vive La sua posizione E la sua carriera Devo dire Che non ho mai Non sono stata Quelle delle quote rosa Però per esempio Nelle mostre D'arte contemporanea Sono l'artista Ad avermi detto Ma Scusa Siamo più donne Che uomini Nella tua mostra Cioè Ho scelto Gli artisti Per quel che portavano Al discorso Non in funzione Del loro genere E' chiaro Che in certi casi Dobbiamo spingere Ci sono anche Tante artiste Da riscoprire Perché La società Ma la struttura Della società In cui sono nate Appunto Non le lasciava Spazio Dunque Ci sono ancora Lavori da fare In questo senso Sono più Ovviamente Io penso più Sulle competenze E i percorsi Che possiamo fare E cosa portiamo In questo In questo discorso Per esempio Nel comitato Nell'associazione Dei musei svizzeri Ora della fine Abbiamo quasi L'equità Tra uomini E donne Anche per via Siamo entrati Per via Dei nostri Percorsi E' chiaro Che mi hanno fatto Entrare Anche per avere La rappresentanza Del Ticino Magari Un cantone In minoranza Però Che ha un enorme Peso A livello di musei Perché il canton Ticino Ha più musei Pro capita Di tutta la Svizzera Dunque Non è indifferente Ma c'è comunque Anche una collega Dei grigioni Dunque E' molto Equilibrato In questo senso E con che orgoglio Vivono i suoi familiari I suoi amici E seguono La sua carriera Entrando un po' più Nell'intimità Di Ecco Di una donna Che non è solo direttrice Ma anche amica Sì Allora Ho anche Amiche Che hanno fatto Carriera Dunque abbiamo anche potuto Condividere Questi momenti Di Difidenza Magari Le problematiche Di management Di essere donna Con un consiglio direttivo Maggiormente di uomini Per esempio Delle cose Di questo genere Problemi stessisti Li abbiamo incontrati Comunque Nei nostri Percorsi E d'altro canto Cioè Penso che Cioè La mia mamma Era già abbastanza contenta Di poter farmi studiare All'università E vedere Dove sono arrivata L'altro giorno L'avevo scritto Ti avvertò Che sono diventata Presidente L'Associazione Dei Musei Svizzeri Perché sembra Che i vodesi Si ricordano Che sono vodesi Adesso è una vodesi Alla presidenza Ci sono Un po' Queste Queste dinamiche Assolutamente Io adesso Ho un momento Nell'intervista Che prevede Una sorpresa Una sorpresa Sono stato ispirato Da un'intervista Della collega Caresani Che quando Le ha chiesto Nel programma Mary Poppins Che cosa Lei tiene Nella borsa Aveva detto Un paio di cose Ora Io ho degli oggetti Lei non sa Ovviamente Che cosa contengono Però io mi sono fidato Di quello che aveva detto In quell'intervista Allora Nella sua borsa Riprendo pari pari La domanda Nella borsa Di Karol Hensler Che cosa c'è Chissà che risposta Ho dato All'epoca Non si ricorda Oggi c'è sempre L'agenda Purtroppo Un'agenda Cartacea O digitale Anche perché Per prendere Gli appunti Sono sempre Rimasta Cartacea C'è sempre Anche Di che cosa Scrivere Andiamo Ci sono Il paio di occhiali Da sole Ci sono I fazzoletti Questo Indispensabile A tutte le situazioni C'è comunque Un Qualcosa per le labbra Non per forza Un po' Ci siamo Ci siamo Un po' Del materiale Per il trucco Allora Vede Questo è uno Specchietto Diciamo Che in questa scenografia Ci sta bene Uno specchietto Fra tanti specchi E poi Abbiamo Il pennello Lo specchietto È necessario Per il trucco Così aveva risposto In radio Si vede che nelle priorità È andato un più dietro Il trucco Ma aveva risposto Per essere pronta Anche alle interviste Lei ha un buon rapporto Con la stampa Con i giornalisti Non le dispiace Accettare le interviste Adesso devo rimanere Politiche corrette E risponderle Dopo le dico Vi odio a tutti Non rimanga politicamente corretta Non sono molto al mio agio Ma nei ruoli che ho Per forza Devo farlo Devo anche dire Che sono stata un po' Presa a contropiede Perché non avevo pensato Che la nomina All'Associazione dei Musei Svizzeri Sollevasse così tanto interesse Però d'altro canto È un'occasione Per sensibilizzare Su delle questioni In contesti totalmente diversi Perché uno si dice Il museo guarda solo la cultura Guarda solo questa parte Magari non entra in questa trasmissione Dunque sono delle opportunità In questo senso E siccome sono un po' Al servizio anche Di ideali Per questo servo anche Se mi interesso Alla struttura Al museo Come istituzione pubblica E perché penso Che è un ruolo importante Da svolgere nella società Dunque rappresentandolo E che va sostenuto Anche se non fa Tanti ingressi Esatto Cioè è un servizio È un servizio A parte che Villa dei Cedri È ben frequentato Allora Però il pennello Sì serve per il trucco Ma mi porta a pensare Che è il pennello Anche degli artisti Dei pittori Lei che conosce l'arte La sa giudicare Sa che cosa è buono E che cosa non è buono Ha mai pensato Di fare dell'arte E non solo Di curarla Esporla E promuoverla No Ci sono A livello di curatori Ci sono due categorie Ci sono gli artisti falliti È meglio Ma là Che non fanno carriera E però Portano questo Sguardo molto pratico Cioè anche con La loro visione Dell'arte E poi ci sono Gli storici dell'arte Io entro anche più Nella Nella categoria Proprio Anche dei culture studies Della prospettiva storica Probabilmente anche Per la formazione In archeologia Cioè questo Il primo pallino Era l'archeologia Dunque È un po' legato A questo E poi Non so Non sono mai Riuscita a disegnare Qualcosa di decente Nemmeno alle medie Ma d'altronde Ha portato Dei grandi pittori Ha fatto le mostre A Villa dei Cedri Ovviamente Con Per esempio Una mostra bellissima Era sui paesaggi Svizzeri Quindi con Odeler Filippo Franzoni Böcklin Poi Ha portato La botanica I quadri I quadrati Di Joseph Albers In fratti Un po' Evochiamo anche Su questi Nostri sfondi scenografici Che ripescano Alcune proposte Di Villa dei Cedri Poi Le carte dei poeti Poi Honoré Dommier Simpaticissimo Anche caricaturista Ovviamente Villa dei Cedri Però ha vissuto anche Un episodio Di cronaca Possiamo dire così C'è stata Da una parte L'amputazione Ecco che intanto Arriva Honoré Dommier Chissà se dovremmo passare L'inverno così Per la crisi energetica L'amputazione Di una gamba Del gigante Nel parco Di Villa dei Cedri Le jardiniere Anche un dito Poi è saltato In un secondo tempo È stata sfregiata Il marmo rosso Di un artista Di un artista belga Lei è intervenuta In quel contesto Dicendo No Io non voglio La videosorveglianza Perché? Beh Diciamo che Allora Storicamente Per Villa dei Cedri Il primo problema È che Cerchiamo di aprire Il parco Perché Per natura È una villa privata Che era Doveva essere protetta Dal pubblico esterno Dunque oggi Come museo Per invitare La gente A entrare Ci sono altre strategie E se incomincio A mettere la videosorveglianza Magari La gente Non vuole neanche più Venire a leggere Il libro Al parco Dopo È anche la questione Che non siamo In una società Cioè Non voglio favorire La società Ipercontrollata Ipersorvegliata Quando mettiamo Delle opere Nel parco Qualche rischio Lo sappiamo Tutti Che lo corriamo Non ci aspettavamo A questa reazione Dopo era interessante Perché era Terza volta Che avevamo Delle installazioni Nel parco Ed è la prima volta E in un altro caso Eravamo qua Ok Mettiamo questa sedia Di plastica esterna Che aveva delle scritte Delle poesie E delle citazioni Eravamo qua Ok Lo sappiamo Rischia di tenere Tre settimane La mostra Dura cinque Magari la sostituiamo Una o due volte E poi eventualmente Abbandoniamo Non è mai scomparsa La sedia Mentre mettiamo Questo gigante Che sembra proprio Inoffensivo Indistruttibile Indistruttibile E voilà Che Penso che più Una reazione Anche può essere Una reazione All'arte contemporanea Cioè Soprattutto Quel che Dopo Parlando con l'artista Che ha fatto le riparazioni Ci siamo detti Che probabilmente Era un po' Cioè Sono stati sorpresi Quelli che l'hanno distrutto Non pensavano Che non avrebbe resistito Dopo si sono esaltati Perché sono finita In prima pagina Dei giornali Dunque Però La reazione Dell'artista Di dipingere Poi la ferita In rosso Aspettando Di poterla Sistemare Era anche Una reazione Di Certe volte Mancanza di rispetto Nei confronti D'arte contemporanea Cioè Una Una venera di Botticelli Nessuno si fa la domanda E' arte Non è arte Sull'arte contemporanea Ora della fine E' un'arte che si sta facendo Lo sapremo nel futuro Cosa Arrimerà Per Per i prossimi secoli Però C'è anche dietro Un enorme lavoro Di un artista Cioè Non è che vale Meno Della Cassiera Della Migros O del postino Del suo lavoro Il mio lavoro Che sta arrivando Alla conclusione Abbiamo fatto mezz'ora Insieme Noi chiudiamo sempre Con E qui Tocca a lei Vandalizzare qualcosa Un biscotto Della fortuna Cinese Che contiene Un messaggio Io non so Cosa c'è scritto Ma li conosce Sì sì Ma non li ha piacere È già stata La ristorante Cinese No eh Ecco Quindi Le faccio scegliere Un biscottino Lo deve rompere E' scritto molto in piccolo In due lingue In inglese E dietro italiano Ecco Cosa dice Il biscottino Cinese Di Caro Lenzler Otterrete Il giusto Riconoscimento Mi sa che è già fatto È già fatto Grazie Direttrice E Presidente Dell'Associazione Svizzera Dei Musei Svizzeri Per essere stata In nostra compagnia Non so Se vuole Poi lo mangia Il biscottino Sì sì Ecco Le lasciamo anche Il bigliettino E le diamo Anche i pennellini Così che Grazie Per essere stata Con noi E grazie Anche a voi Per averci seguito In questa edizione Dello specchio Ci rivediamo Fra una settimana Buona serata Buona serata